Un comitato provinciale per l'ordine della sicurezza pubblica importante con tutti i vertici delle forze di polizia, il prefetto e uno dei punti all'ordine del giorno era la nuova circolare del capo di gabinetto del Ministero dell'Interno, Piantedosi, sugli eventi. Come voi sapete i comuni avevano manifestato preoccupazione che dopo le vicende di Torino ci potesse essere stata una forte restrizione che non consentiva o rendeva particolarmente difficoltoso la realizzazione di eventi culturali, di fiere e di sagre. Abbiamo fatto una battaglia importante in queste settimane e in questi mesi per poter avere una maggiore forza all'interno dei territori e poter evitare che la cultura facesse un passo indietro nel nostro paese. Credo che al netto di alcune cose che si devono ancora aggiustare, la richiesta di un fondo compensativo per le spese aggiuntive per la sicurezza che gravano sui comuni se le deve caricare lo Stato e questo non è stato ancora previsto nella circolare io esprimo soddisfazione per la circolare del Ministero dell'Interno perché dà più forza, più potere ai sindaci insieme alle altre forze istituzionali, insieme al comitato provinciale. Quindi è vero, come dice anche qualcuno, che magari il sindaco viene tenuto maggiormente col cerino in mano ma comunque il cerino il sindaco lo tiene sempre in mano, abbiamo parlato adesso del tema del diritto all'abitare quindi io il cerino me lo tengo volentieri in mano perché da oggi potremmo dire che tutti gli eventi culturali piccoli e grandi si potranno fare nella nostra città perché saremo noi a guidare le politiche culturali e anche dei limiti sui temi della sicurezza insieme alle altre forze di polizia, insieme alla prefettura eccetera quindi credo che è un modo di andare incontro anche alle autonomie quindi la circolare del capo di gabinetto del Ministero dell'Interno complessivamente ci soddisfa e mi soddisfa.